Vorrei arrivare almeno a 6-7, però non lo so, è difficile a queste condizioni Meno 4 giorni, devi essere più veloce con lo sparo Meno 4 giorni, devi essere più veloce con lo sparo Meno 4 giorni, devi essere più veloce con lo sparo Ci avrei dovuto scappare subito dal cesto Vabbè, e niente che...